Sono in quarantena, mi dispiace, ma vorrerai presto, non ti preoccupare. Lion, perché ti chiami VGF? VGF viene dal nome del canale che è sempre stato WhenGamersFail, io l'ho chiamato così quando l'ho creato, e VGF sono le iniziali. WhenGamersFail sarebbe quando i giocatori falliscono, perché quando io ho creato il canale era un momento in cui tutti quelli che avevano un canale, ma si parla del 2012, ragazzi, sono dieci anni fa ormai quasi, e lì tutti quelli che avevano un canale erano persone che erano forti a un gioco, no? C'erano tantissimi canali di Call of Duty, c'erano persone che facevano vedere quanti erano forti, anche su Minecraft quelli che facevano le cose, era più una questione di tutorial. Io non ho mai puntato sull'essere forte in un gioco, ma di utilizzare il gioco come intrattenimento, come un set, come un palco, è quello appunto che facciamo tuttora, no? E quindi quando i giocatori falliscono, perché non mi interessava essere uno che fa vedere di essere straforte nei videogiochi, è un modo di fare le cose, è anche quello, niente di male. Niente di male. Nel video di oggi Cicco è entrato nel terreno.